Resta alta l'attenzione a Torre del Greco. Nella giornata di ieri sono 29 nuovi casi di positività al Covid-19 a fronte dei 165 tamponi effettuati, tutti in isolamento domiciliare. Sono invece 27 il numero delle guarigioni registrate. Sale ancora il numero di decessi. Ieri sono decedute tre persone di 74, 72 e 67 anni. A Torre Annunziata invece sono 468 i tamponi effettuati, 64 dei quali risultati positivi al Covid-19. Al contempo si registrano anche 40 guarigioni ed il decesso di 4 uomini rispettivamente di 90, 80, 74 e 61 anni. Ad oggi i positivi nella città o Plontina restano 777. Delicata la situazione a Castellammare di Stabia, dove, dopo numerose restrizioni del sindaco Cimmino, nella giornata di ieri i positivi registrati sono stati 105 a fronte dei 543 tamponi effettuati. Si registrano però 13 nuove guarigioni e nessun decesso. Attualmente in città i positivi sono 2.122. Sono 171 i tamponi effettuati a Ercolano, dove 47 sono risultati positivi al Covid-19 a fronte dei 36 nuovi guariti. 14 di questi avevano contratto la cosiddetta variante inglese. Al momento in città sono 465 i positivi, di cui 20 con variante inglese. La situazione contagi non sembra placarsi, con la campagna che si gioca tutto in queste ore. Un destino, quello campano, che si vede sempre più proiettato in un regime di quasi lockdown con l'entrata della regione in zona rosso. Grazie a tutti.